nella puntata precedente la carovana di explorer ha visitato il parco nazionale del mago per andare a cercare la famosa tribù dei mursi siamo rimasti con loro per un giorno imparando a conoscere alcune loro usanze il nostro arrivo è stato l'occasione per incontri straordinari dopo un viaggio sulle piste della terra degli amer abbiamo attraversato il fiume omo per andare ad incontrare la tribù dei galab qui a pochi chilometri di distanza abbiamo trovato una tribù molto diversa che costruisce capanne particolari e ha diversi tratti somatici l'alba nella terra degli amer dove siamo tornati ci vede assieme ai suoi magnifici figli il nostro campo accanto al fiume diventa ben presto un punto di ritrovo ma noi partiamo presto perché oggi abbiamo in programma di andare al mercato di dimeca da turmia di meca ci sono pochi chilometri ma il paesaggio cambia molto specie in un per il colore della terra che diventa più rossa